Take it easy, take it slow We ended up just like before So take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite News Prima di iniziare ragazzi vi invito come sempre a lasciare un bel like Per sostenermi, un'iscrizione al canale mi raccomando è davvero importante Grazie mille a chi lo farà E se vi va potete anche seguirmi su Instagram Cecchinato trattino basso tv Trovate comunque tutto nella mia descrizione del canale Ragazzi oggi siamo qui per parlare di un paio di notizie Ovvero l'uscita di una nuova skin dell'Icon Series Che sarebbe le icone che escono tipo come quella di Ninja Ovvero personaggi famosi che li mettono come skin su Fortnite Penso tutti sappiate cosa siano Un esempio è ovviamente la skin di Ninja, la skin di Travis Scott Tutte queste cose qui Infatti ne arriverà una femminile molto carina secondo me E poi ragazzi siamo per parlare per l'evento Doomsday Perché piano piano, giorno dopo giorno ragazzi stiamo scoprendo tutto su questo evento Oggi infatti vi parlerò molto dell'evento Doomsday Mi raccomando guardate il video tutto fino alla fine Perché c'è davvero molte cose interessanti Io direi subito iniziare Non parliamoci in cacchiatelle Regà la prima cosa di cui voglio parlarvi è L'evento L'evento ragazzi sappiamo che inizierà tra qualche settimana Verso fine maggio si dice il 30 maggio è diciamo la data Di cui i leaker hanno diciamo detto che ci sarà l'evento Non è ufficiale ma si dice che sarà il 30 maggio Detto questo ragazzi Vi mostro questa immagine che raffigura Qualche giorno prima credo Prima dell'evento Infatti vediamo che ci sarà un timer ragazzi Guardatelo qui Non guardate il giorno non c'entra nulla è solo un bug Non indica ecco la data dell'evento Quindi andate tranquilli Però questo apparirà nella lobby Ovviamente insieme poi all'agenzia Che vedremo in game sopra il timer Un'altra cosa di cui voglio parlarvi Si è trovato un enorme buco sotto l'agenzia Non è un buco che possiamo ovviamente Andarci noi fisicamente Ma è un bug che potete vedere solo Andando nella zona replay Quindi sappiate che c'è un buco sotto l'agenzia Non si sa cosa Magari chi lo sa è proprio da lì Che poi metteranno questo accecio Questa cupola Perché di fatti ragazzi non so se lo sapete Ma hanno decryptato questa cupola Che verrà messa in game E quindi ovviamente un posto dove metterlo Quale non meglio se sotto l'agenzia A parer mio E queste sono le novità per l'evento Toomsday Niente ci rimane che aspettare E ovviamente dell'evento in sé Non si sa cosa succederà Sono veramente curioso Speriamo che sia bello Come sempre è stato E speriamo bene dai Un'altra cosa Prima di passare al prossimo argomento Molto interessante E le nuove sfide Me l'avete chiesto in tanti Le nuove sfide Ragazzi non si sa ancora quando usciranno Era previsto questa settimana Il giovedì o il mercoledì Ma purtroppo non abbiamo più visto la sua uscita Ma state tranquilli Arriveranno Gli oggetti sono sempre gratuiti Stessa roba Se non avete visto il video Andatelo a vedere Delle sfide dell'assalto agenzia E raga guardate questa foto Trovate un Se siete stati Subito Diciamo bravi Avrete sicuramente visto che Nella skin Della Recon Expat C'è rappresentato un logo Con tre spuntine Diciamo che vanno verso il basso Lo stesso simbolo Lo troviamo anche nel piccone E nel deltaplano Che ci verrà dato Nelle sfide Quindi io credo che Confermato Il rilascio di nuovo Finalmente di questa skin Quindi la rivedremo tutti Nell'item shop In più La vedremo con queste sfide aggiuntive Dove ci regalerà Sia il piccone Della Recon Expat Sia il deltaplano Della Recon Expat Con ovviamente poi La copertura delle armi Nere Della fazione E ombre Quindi raga Questo è tutto Direi che ci possiamo Invece spostare Per quanto riguarda La skin Iconic La nuova skin Iconic Ragazzi sarà un modello Femminile E si parla Della Ragazza Nota youtuber Lois Fruit La potete trovare La potete trovare benissimo Su youtube Però si sa La skin Uscirà sicuramente Non si sa ancora quando Ma sicuramente vedremo Questa skin Uscire E tra l'altro Se non ero E la prima skin Femminile Iconic Ad uscire Nell'item shop Quindi Tanto Tanta roba La skin Possiamo vedere qua Un piccolo spoiler A questa Form Diciamo Ovviamente Non possiamo ancora Decryptarla Però Secondo me Tra qualche giorno Verrà decryptata E vedremo Tutto l'intero set Direi che per questo video È tutto ragazzi Io vi invito Come sempre A commentare Qua sotto Le vostre teorie Per l'evento Doomsday Cosa succederà Ragazzi E se Seguite Lois Fruit E siete contenti Per questo Per questo Lancio Della sua skin A parer mio Sarà veramente Carina Perché Perché lei è carina Sostanzialmente Detto questo Il video può finire E Niente Bella raga Ci vediamo A un prossimo video Bella